A dare il là al dibattito è stato l'ex senatore Svaopeo Oscar Peterlini da tempo in rotta con i vertici del suo partito, secondo il quale la riforma costituzionale approvata dal Senato è pericolosa per l'autonomia e le minoranze in quanto eccessivamente centralista. Peterlini ha anche ricordato a muso duro al senatore della Stella Alpina Carla Zeller di aver avvertito tutti per tempo dei rischi che si andavano occorrendo. Di segno se non completamente opposto, quantomeno diverso, il giudizio dell'attuale senatore di Svaopeo Epidi ed esperto costituzionalista Francesco Palermo. In ottica aldotesina è abbastanza positiva, si tratta di giocare in difesa in questo caso e la difesa ha funzionato, quindi siamo riusciti non soltanto ad ottenere che non venisse applicato il nuovo titolo quinto alle autonomie speciali, ma anche che per eventuali modifiche dello statuto si debba procedere con intesa, quindi più di quello che c'era prima. E anche il senatore della Svaopei, Carla Zeller, difende la scelta operata, quella di limitare i possibili danni a fronte di un largo pensiero anti-autonomista diffuso a Palazzo Madama e dintorni. Gli amici dell'autonomia e soprattutto delle autonomie speciali sono pochissimi. Se non trovo un accordo col governo che mi dà parere positivo sull'inundamento, se poi senza di questo vado a fare una grande discussione in Parlamento, se hanno la possibilità di toglierci l'autonomia speciale, molto volentieri la grande maggior parte o la stragrande maggioranza dei parlamentari voterebbe in tal senso perché considerano l'autonomia speciale come un privilegio ingiustificato.